La cosa giusta perché non voglio dire che la faccia sempre, ma vedi veramente un'intelligenza cristallina di calcio. Le piccole cose nel corto, giocata sempre col tempo giusto, mai più di due tocchi. Secondo me è un giocatore incantevole. E chissà che il tridente nelle prossime partite della Francia non possa essere quello che abbiamo visto negli ultimi minuti. Cioè con Griezmann in campo insieme a Giroud e Benzema, il grande trascinatore, segnato due gol, più ha propiziato il terzo. Alessandro Alciato avranno visto, credo...